Sor Michela, anche in questi giorni in cui siamo tutti chiusi in casa, l'attività della cooperativa sicuramente non si è fermata? Sicuramente è stato un tempo imprevisto anche per noi come cooperativa. Questo ci ha richiesto e ci sta richiedendo di ripensarci, ma soprattutto di ritrovare un modo diverso oggi per continuare ad essere presente alle famiglie e ai minori. Ed è quello che stiamo tentando di fare in una situazione di questo tipo. Ci ha chiesto davvero di quasi un fermento, ritirare fuori altre energie, altri spazi insieme ad altri per poter dare delle risposte. Dare risposte a una situazione che era inimmaginabile. Per cui cerchiamo di restare in collegamento ed essere presenti per quanto è possibile alle famiglie, ai minori, alle donne che accompagniamo. Credo che in questo momento l'impegno prima di tutto è stato quello del rispetto delle regole. Questo restare a casa e utilizzare gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione. E utilizzare poi gli apparati che servono per la tutela. È molto importante. Credo che poi in questi giorni, con il sole che abbiamo, con le belle giornate, potrebbe venirci la tentazione di dire ce l'abbiamo fatta, usciamo. Invece credo sia molto, molto importante che continuiamo a restare fedeli a quella protezione per noi stessi e per gli altri. Come cooperativa in questi giorni abbiamo davvero cercato di essere presenti in vari modi, anche rispetto al sostegno davvero con le spese per le famiglie, per quello che c'è stato possibile. E persone ci hanno donato e noi abbiamo ridonato. Ecco, è una piccola goccia, ma cerchiamo e da parte di tutti gli operatori c'è stata davvero i volontari, c'è stato un grande impegno per poterlo fare. Ci sono richieste da parte di donne che hanno subito violenza e che hanno bisogno di aiuto anche in questo momento? Questo è ancora un momento ancora più delicato per quanto riguarda le donne vittime di violenza, perché in questo momento in cui ci è chiesto di restare in casa, le situazioni diventano ancora più delicate e quindi ci chiede di essere presenti, ma anche con maggiore attenzione, proprio perché i contatti avvengono attraverso i mezzi e restando in casa bisogna essere molto molto prudenti per capire come aiutare davvero le donne. Sicuramente non è una situazione facile per quelle situazioni di violenza, anzi è una situazione che potrebbe sfociare ancora di più in un acutizzarsi di eventi di violenza all'interno delle rumore domestiche, proprio perché il fatto di vivere in casa con il maltrattante diventa a questo punto una maggiore possibilità che questo si acutizzi. In un periodo come questo, Sor Michela, c'è bisogno di riscoprire la nostra fede, l'essere cristiani e soprattutto il valore della famiglia, vero? In questo periodo davvero particolare della quaresima, dell'ora del tempo di Pasqua, è stato per noi, anche proprio come comunità religiosa, del tutto particolare. Siamo passati dalla possibilità del fare alla possibilità di trasformare ciò con le mani alzate, in una preghiera di intercessione più costante, a un ritornare ad affidare al Signore le situazioni che in questo momento non potevamo raggiungere come avremmo volute. E forse ci siamo detti, forse è stata l'azione maggiore che potevamo fare. Per cui in questo tempo per noi è stato davvero, anche come religiose, un momento nel quale stare in silenzio davanti al Signore, chiedendo al Signore guarda, ma aiutaci a guardare la storia e la realtà con occhi diversi, per comprendere per quale via, beh credo che sia stata la preghiera più frequente.